musica io apro il libro nero, no, effettivamente qui non ci potrebbe essere i sub mi stanno proteggendo da aprirlo comunque secondo me non devi aprirlo, non devi aprirlo, c'è un motivo se i sub si mettono ma infatti ma cosa significa, cioè è un libro, perché deve dire perché hai perso il libro e c'è il mio nome eh infatti era questa la cosa che stavo pensando stai volendo Alex nella prima pagina c'è il nome di Alex preservatemi per favore, non posso morire, c'ho il mio piccone netarite nella pagina 2 c'è il nome di Spina ma porca miseria l'ho appena fatto il piccone netarite nella pagina 3 c'è il nome di Strecatto no io li faccio nascondere non è il mio, ti prego, puoi fatti in bagno se vuoi scrivere il libro nero neanche io voglio esserci per favore ti supplico pagina 4 paga oh veramente ti prego eh pagina 5 porca miseria che è successo? sei morto sei morto com'è successo? com'è successo? ma chi ti ha ucciso? ma era impossibile, come hai fatto a cascare dentro un blocco di ossigiana? ragazzi ero in un secchio di latte più veloce che mai io l'ho preso, io l'ho preso, io l'ho preso, io vieni qui dove sei, sono fuori dalla sigla non c'è tempo di reagire, secchi di latte, secchi di latte, piccone non ne ho idea, piccone questa è la cosa più assurda che ci sia mai successo ma con il libro aperto, com'è possibile? quando sono entrato nella pagina sono morto raga com'è possibile? com'è successo? ma perché era invisibile? ma cosa c'era scritto? non lo so, cosa c'era? ma guardate un live di rapitore chat, guardate che cosa c'era scritto non c'è, non c'è no, no, lui non c'è, tranquilli però parliamo della stessa cosa c'era scritto, c'era scritto che sei caduto te lo leggo io, c'era scritto che sei caduto ok ok allora, io apro dicono che c'era il tuo nome occhio a dentro, occhio a entrare, fermo eh, io faccio il mio, del mio meglio per ora non ho ancora la mailing fatigue quindi ne approfitto però penso che rientrava adesso e prendeva tutta la sua roba no, me l'ha data ora la mailing fatigue stavo per rompere ok, facciamo una cosa, facciamo una cosa bisogna uccidere il guardian e poi lo rimettiamo no, 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 no è follia è facilissimo da riportarlo è follia eh, se no come fai? hai perso tutta la roba se avessi un piccone migliore e questi sub Cold me li spostasse mannaggia a te te li sto spostando, te li sto spostando quanto sei inutile oggi Cold mi riprendo il pagamento dai, ma non veniamo anche noi giù no, 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 il pagamento no, no, no il pagamento no, il pagamento sì, il pagamento no non mi hai pagato niente di vostro vuoi che stavolta entro con te? no ok allora, mi rimetto tutto dovrei aver ripreso quello che mi serviva cioè tutto, spero spero che non mi manchi niente il libro nero è ancora lì? penso di sì non toccarlo ma scherzato non aprirlo neanche non lo toccare, per carità no, non lo apro più però sono dubbioso com'è stato possibile che io muoio questo libro ovviamente quello che avevamo preso prima era firmato da lui, eh quindi, vabbè, naturalmente era suo è sicuro è il suo, infatti c'era una cosa però dobbiamo pensare a cose più importanti più importante ovvero? eh, io ho visto una cosa ho visto una costruzione lontana, lontana mentre guardavo intorno alla zona della caccia di Anna ma chi ha fatto qualcuno di noi? secondo me, quella non è roba nostra perché è troppo lontana e nessuno ce l'ha mai detto quindi potrebbe essere la sua non ve lo dico ma ci hai fatto caso ieri? ci ho fatto caso ieri sera e magari l'ho fatta io? dov'è? che verso è? allora è dalla parte dell'alveare però molto più a nord mai andato lì quindi no neanche io non sono stato io io dopo c'è quelle cose che ho costruito per la caccia è il massimo che mi sono spostata a costruire è proprio una villa ragazzi e c'è una villa io non l'ho guardata dentro perché ho aspettato la live però c'è una villa e potrebbe essere però è un nido di qualcosa eh, io non lo so non è che è sparito qualcosa a qualcuno? non lo so, eh non credo ma non è che la manzione quella lì degli illager no ovviamente non sono mica deficiente andiamo a controllare no? ci sono oh ma ci sono dei sub hai visto? questa è la zona di quelle lì dei pinguini no dei pinguini sì, è dei papagalli antichi sub ma come hanno fatto la sub qua a Riva Nere antichi infatti e sono volati via questi sono vecchi vuol dire che ci sono da tanto questo mi fa pensare brutte cose questo no? beh, questa è una cosa bella però è una bella villa allora domanda numero uno se fosse di qualcuno di voi non ci sarebbe niente di male quindi potete tranquillamente dirlo è di qualcuno di voi? no, assolutamente no posso prendermi i meriti? cioè per favore voglio anch'io una casa così è tua o no? non è mia però lavora tanto ok Cico fammi un favore scrivi a Paga per sapere se per caso è sua io scrivo subito aspetta dubito fortemente perché Paga non è capace ma infatti non lo sa fare hai visto la sua parte ma schivo scrivi anche a Geri che piace per sapere se l'hanno fatta loro ma perché la farebbero così lontana? ma dubito anche lì molto fortemente che siano capaci di farla eh ragazzi ok vado a vedere eh ragazzi entro? attenzione attenzione tranelli allerta secondo me tu vieni con me infatti vieni con me ok gli altri fuori e vi controllate a vicenda e ogni tanto controlliamo anche in tab perché se lui rientra io devo andare a parlargli faccia urliamo subito se entra guarda andiamo Cold vieni con me da dove si entra secondo te? boh secondo me bisogna seguire queste scale qua allora c'è pieno di blocchi di ferro io mi ricordo che uno prendeva i blocchi di ferro ma non era l'assassino supremo era l'altro quello che aveva chiesto riscatti tipo un botto di blocchi di ferro non è che cosa sia questa? che faceva le cose in a caccia non è che questa è quella del mattatogliatore mmm l'inetto 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 lo stupido schiavo non lo so vediamo cos'altro c'è utensili tra cui anche una spada incantata però niente di che redstone oro diamante tra l'altro il diamante possiamo anche cularcelo se non è di nessuno quello lo prendiamo si 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 nessuno li ha dichiarati poi quello non si butta infatti non si butta via mica niente poi oggetti a caso niente di importante un po' di cobblestone è una casa praticamente tanta TNT eh questa in una casa magari non ci si trova 1,2,3 3 stack e 20 cavolo ragazzi questa è assai eh comunque sì ma per sicurezza toglierla perché potrebbe usarla e beh in teoria se è su sede il rapitore lui è in cella non può usare niente finché non esce quindi è vero anche questo un'incudine molto usata questa qui dimostra magari che lui ha fatto tanti libri potrebbe essere per quello eh sì ha continuato a nominare libri e intitolarli cioè magari è di qualcuno che non conosciamo cioè nel senso non conosciamo è solo noi sì lo so però magari è tipo di qualcuno che non è adesso qui eh qua ci abbiamo il surplus eh ragazzi questi sono libri tanti libri da scrivere questi sono suoi ragazzi questi sono suoi per forza di cose non c'è altra speranza sono due file di libri lì pronti per essere scritti più tantissimi altri libri normali è entrato il rapitore 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 ok allora fermi qua cold rimani qui non toccare niente ok faccio la guardia alla casa per vedere che non entri nessuno io metto l'elitra e vado e cosa facciamo noi ne stiamo qui voi restate lì però adesso io mi perderò sicuramente è lì dritto è dritto lì vai ok devo ritrovare hai trovata? sì ho trovato l'alveare adesso dall'alveare giro a sinistra ditemi se è ancora online voi eh se sei ancora online c'è ancora c'è ancora vai 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 sto entrando nella zigora c'è parlarci forse beh almeno a vederlo bene mi raccomando sei attento sto scendendo adesso ma lui voi se scrive qualcosa in chat voi ditemelo comunque eh va bene va bene sto scendendo c'è ancora sì però adesso silenzio radio non ho scritto niente c'è ancora c'è ancora sto scendendo aspetta forse ho perso la cosa dove cacchio era hai il latte hai il latte ci sto ci sto ci sto ce l'ho il latte però è pericoloso eh ma il nome lo vedi riesci a vedere il nome? vedo il nome allora il latte ce l'ho bevo il latte e gli apro la gabbiella voglio vederlo un solo blocco prima che scappa aspetta è vero è vero se scappa da qui non può sto aprendo sto aprendo sto aprendo no c'è l'ossidiana dietro come l'ossidiana? è uscito? è quitato è quitato si è tappato lui qua non c'era l'ossidiana ma allora tantissime risorse anche perché per ritapparsi dentro con un altro ossidiana vuol dire che già ce l'aveva no no ma non l'hai messa magari l'hai messa a te quando stavi uscendo forse l'ho messa io prima può essere eh ma che il doppio muro mi sembra di no eh e magari è il mutuo per sbaglio ma perché tapparsi? fatto sta che appena io sono non si vuole far vedere appena io sono arrivato se n'è uscito eh esce con l'enderpearl no allora raga se anche avesse un enderpearl in teoria non dovrebbe poter uscire eh guarda se è tutto chiuso non può uscire se c'acchiappa nel buco passa attraverso no 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 non ce l'ha l'enderpearl vi assicuro che l'enderpearl non ce l'ha perché se ne hai tanti ti puoi compenetrare col muro ma non ce l'ha perché non l'ha fatto non ne ha neanche uso sarebbe già scappato è vero sarebbe già uscito però scusate lui l'ha detto che poteva uscire lui ha detto che poteva uscire però secondo me l'avrebbe già fatto perché vedete che non si vuole neanche far vedere quando io mi avvicino lui scappa quindi secondo me lui non vuole farsi guardare ma scusami secondo te qual è il motivo perché non vuole farsi vedere da te o da noi eh non lo so non vuole parlare non vuole rimanere ma scusa prima dice parliamo bla 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 e poi non si fa vedere magari ha paura di essere riconosciuto comunque la botola ragazzi l'avevo vista avete spammato la chat di botola a botola l'ho vista attento attento sono caduto cold grazie per il tuo tempestivo intervento che non è servito a niente vabbè aspettami dove sei caduto c'è una specie di piccolo labirinto sotto di ossidiana oh no altri labirinti no questo è fissato perché farsi un labirinto sotto casa per nascondere qualcosa magari o voleva essere trovato ragazzi c'è una stanza con gli zombini e mi sembra che sono no ragazzi sono tanti c'è una esercita con gli zombi di guardie ma chi è che mi sta facendo malissimo il veleno mi sa sto prendendo danno il veleno però c'era un po' di latte ma il veleno di cosa scusa non c'era niente forse gli zombi di oceani ok 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 posso andare io ok ok ci sta scritto deposito mi ha dato una chiave quindi io devo buttare la chiave in chiave ma fa le magie questo ma tutto bene no no fermi fermi tutti come ha fatto non lo so ehi cosa che cosa no porca miseria questo è l'antro di Alibaba e i 40 ladroni oh madonna qua mi ricordano è scassatissimo questo neanche quando facevamo i griff si vedeva tanta TNT in un solo posto è impossibile che l'abbia presa da sola cioè ma anche in 3 in 4 è impossibile così tanta TNT deve avere guarda l'unica possibilità silenzio in aula succhioni oh questa TNT è possibile farla solo con delle farm solo automaticamente quindi potrebbe essere o che lui è in creativa o che ha una farm funzionante di creeper oppure aspetta aspetta scusa mi sa che si possono duplicare in qualche modo gli oggetti è possibile le TNT c'era un bug per duplicarle ma non so se funziona in quest'ultima versione oh è entrato è entrato fallo 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 agisci fatto 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 non so se se era upato o no questo non ve lo so dire però il comando per toglierlo io l'ho fatto quindi se anche fosse gliel'ho tolta se anche fosse che era gliel'ho tolta adesso il 100% non può uscire l'unico opato ora sono io il mio profilo ce l'ho solo io quindi da adesso in poi non può succedere più niente cico però io sono qui dietro non sono sospetto Anna può accedere al mio computer però mi sembra anche Anna non può accedere al suo computer perché l'ion c'è tutto grazie della speed eh ho capito però attenti cold cold processo cold no cold è stato cold cold qua cold qua cold 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 hai visto il creeper e ti sei rifermato ripariamo c'è stato un piccolo problemino strano sei un altro dietro ma sei da finché no io non ci posso credere tutti e due veloci 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 fate schifo allora tutti e due schifosi allora cold sei stato avvertito che avevi il creeper dietro ti sei spostato ti ho visto che ti fermavi ti giravi ed esplotevi che cacchio fai stavo andato ad andare ma non ci sono riuscito ma cosa vuol dire cosa ti sono paralizzate le gambe per la paura Alex a riparare i blocchi schifezza tutti i blocchi veloci cold e tu tu turpe malcreato ah io che male tu hai fatto la stessa cosa lì davanti e non hai fatto niente non hai agito ma stavo riparando le cose che aveva fatto lui taci marpione allora scrivi hai morto chi è morto ci hai permesso di morire no non va bene come ti sei permesso di morire prima che fosse venuta la tua ora mi hai frecciato è colpa mia quindi non è una giustificazione voto nostro iniziamo ci dico eh morte ha distrutto il tribunale quello è un peccato comunque si stre morte ma è stato per te stesso anche mi ha detto guarda in quanto ex bodyguard posso dire che non era pronto neanche lontanamente non se lo merita morte non deve morire io sono fuori perché stavo facendo i sondaggi se mi stai cercando sono quittata morte ha distrutto cose morte suprema ma c'è chiedi pure ma è bene e io rimane il mio voto cold vedi un po' laio allora puoi depositare tutto tranne l'elmetto e la corazza ok grazie cold vai a saziare questa cold che possa godersela con il tuo carname sta bene così impari a romperle le cose mie ok strecato sei già morto prego prego vabbè dammi una cosa ecco la quale vuoi la spada poverino ma i piedini dove sono eh li ho persi nella lava quando eh poco fa quando sono morto allora basta dai hai perso già i piedini basta cioè neanche lo facciamo e poi la colpa principale era di cold perché strecato stava cercando di aggiustare invece cold ha proprio fatto il danno per oggi ci fermiamo e lion out tutto